1 dicembre 1972. Muore a Roma Antonio Segni. Nato a Sassari nel 1891, Segni è nel 1943 tra i fondatori della democrazia cristiana. Eletto all'Assemblea Costituente, ricopre tra il 1946 e il 1950 più volte la carica di Ministro dell'Agricoltura e Foreste nei governi guidati da De Gasperi. Il 6 maggio 1962 diventa il quarto Presidente della Repubblica. La sua presidenza dura solo due anni e mezzo. Nel 1964 Segni viene colpito da trombosi cerebrale e rassegna volontariamente le dimissioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti.